Ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Una violenza sessuale di gruppo compiuta da ragazzini all'interno di una struttura di cura pediatrica del bellunese, vittima una quindicenne. È per questa vicenda avvenuta nel 2013 che ieri in tribunale a Belluno si è aperto il processo nei confronti del guardiano notturno dell'ospedale, un trentenne vicentino che la notte delle violenze non si sarebbe accorto di nulla oppure è il sospetto, non avrebbe fatto nulla per impedirlo, di fatto diventando complice. L'uomo è accusato di violenza sessuale aggravata essendo i protagonisti minorenni e omessa vigilanza. Il ragazzino sarebbe stato legato al letto con del nastro adesivo da alcuni compagni e violentato. Per il fatto sono imputati davanti al tribunale dei minori di Venezia tre ragazzi ritenuti gli autori della violenza. Il tribunale di Belluno ha fissato al 10 ottobre prossimo la prima udienza per sentire i testimoni dell'accusa e della difesa. La parte offesa non si è costituita, parte civile. E adesso dobbiamo parlare di una tragedia avvenuta sulla strada oggi in provincia di Venezia. Parliamo di uno scontro frontale tra due automobili. Grave il bilancio, due morti, due anziani coniugi, marito e moglie e una persona grave all'ospedale. Grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Porto Gruaro in provincia di Venezia. Due morti e una persona ferita. Alle 10 di giovedì mattina lungo la strada statale 14 Triestina in località Lison si sono scontrate due automobili frontalmente, una Fiat e una Mercedes. Nell'impatto gli occupanti della Fiat 600, marito e moglie, sono deceduti. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico ne ha dovuto constatare la morte. I vigili del fuoco hanno estratto dalla Mercedes il conducente che era rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato con l'elicottero all'ospedale. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi per stabilire le cause della tragedia della strada. E si è verificato un altro grave incidente nel pomeriggio di oggi intorno alle 16 e 30 sulla Transpolesana nel comune di Zevio. A causa di un tamponamento tra un furgone e un tir che procedevano con direzione Verona, i due occupanti sono rimasti incastrati all'interno delle cabine. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. e hanno dovuto lavorare a lungo per liberare dalle lamiere i due conducenti che poi sono stati presi in cura dal SUEM. Sul posto è atterrato anche l'elicottero. Tutte le operazioni hanno richiesto la chiusura ovviamente della strada. I carabinieri di Venezia hanno denunciato due uomini che presentandosi ad un'anziana come procacciatori d'affari per conto di una nota società di energia le avevano rubato denaro e gioielli. I due a novembre dello scorso anno sono entrati nella casa della signora con il pretesto di controllare delle vecchie bollette del gas. Hanno approfittato di un suo momento di distrazione per compiere il furto e poi dileguarsi. Inoltre dopo aver preso i dati anagrafici della loro vittima le hanno intestato falsi contratti di cambio fornitore di servizi. I carabinieri sono riusciti dopo alcune indagini a risalire all'identità di questi malviventi. I carabinieri della stazione di Mirano in provincia di Venezia hanno denunciato una coppia di italiani per aver rubato lo scorso settembre un cellulare sul quale continuavano a scattarsi dei selfie caricando poi le foto su iCloud. Il proprietario non aveva mai cessato di seguirne le sorti dal proprio telefonino di ultima generazione. Proprio la traccia informatica dell'apparecchio e il salvataggio automatico sul server delle fotografie scattate hanno consentito ai carabinieri che il terminale era ancora attivo e quindi lo hanno individuato. Sono così riusciti a trovare i due che sono ovviamente stati denunciati per ricettazione. In provincia di Padova questa mattina in zona termale a Montegrotto paura per un incendio che hanno travolto un appartamento. Nell'abitazione era presente anche un cane che è stato salvato dai pompieri. Poco dopo le 9 di giovedì mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via e in Audi a Montegrotto Terme in provincia di Padova per l'incendio divampato all'interno di un appartamento a secondo piano di un piccolo condominio. Le squadre intervenute da Abano e Padova con tre automezzi hanno spento le fiamme evitando l'estensione del rogo alle altre stanze. Salvato un cane che si trovava all'interno dell'appartamento. L'incendio ha causato gravi danni alla cucina e al soggiorno oltre a danni da fumo all'intero alloggio. Le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'appartamento non agibile ora sono terminate dopo circa tre ore. Tragedia sulla strada ieri sera a Casalserugo in provincia di Padova. In seguito ad un piccolo tamponamento tra mezzi il conducente di un furgone è sceso ma si è accasciato al suolo colto da un malore fatale. La vittima aveva 80 anni e nessun tentativo di rianimazione è stato utile a salvarlo. Quindi il decesso dovrebbe essere attribuito ad un malore e non ad una causa provocata dall'incidente. Naturalmente sono in corso sia i rilievi di questo sinistro ma anche gli accertamenti sul decesso dell'uomo. Un giovane moldavo rimasto coinvolto in un incidente stradale qualche sera fa a Zero Branco è stato arrestato. Mentre erano in corso i rilievi degli incidenti i carabinieri hanno scoperto che il giovane era destinatario di un ordine di carcerazione. Era ricercato. Si tratta di una persona con numerosi precedenti penali nel suo paese ma pare che non avesse comportamenti leciti nemmeno in Italia. Quattro realtà assistenziali nel Polesine faranno squadra da domani mettendo in comune l'acquisto di beni e servizi ma anche la formazione del personale e la gestione delle loro attività. Sentiamo nei dettagli. Quattro realtà assistenziali del Polesine fanno squadra e mettono in comune l'acquisto di beni e servizi, la formazione del personale, la gestione di servizi aziendali. Venerdì 16 febbraio nella sede IRAS di Rovigo il commissario straordinario dell'Istituto Rodigino insieme alla presidente del Centro Servizi Anziani di Adria, al presidente dell'IPAB di Cavarzere e alla responsabile del Centro Servizi per Anziani Pietro e Santa Scarmignanna di Merlara firmerà l'accordo di programma per aggregare alcuni dei servizi comuni tra i quattro istituti. È un passaggio storico per valorizzare e razionalizzare i servizi assistenziali per la terza età e per le persone non autosufficienti, spiega l'assessore regionale e al sociale. In questo modo il Polesine accoglie le indicazioni della legge regionale di razionalizzazione degli enti sociosanitari e anticipa uno degli orientamenti chiave della riforma delle IPAB. Aggregare e realizzare economia di scala per contenere i costi e rendere servizi migliori e più efficienti agli ospiti e alle loro famiglie. Come dice il detto popolare, l'unione fa la forza. Quattro istituti che mettono in comune acquisti, servizi gestionali e formazione, potenziano la loro funzione e saranno in grado di generare risorse per un nuovo welfare. È uno spray al peperoncino, la causa che ha provocato dei problemi in un punto del pronto soccorso di Chioggia qualche giorno fa. L'area è stata improvvisamente interessata da una qualità dell'aria irritante. Era stata ovviamente la zona svuotata, ma la causa non era stata compresa immediatamente. Ora le immagini del circuito di sicurezza hanno fornito la verità. Due uomini avevano litigato nell'atrio della struttura sanitaria e uno dei due aveva spruzzato proprio lo spray irritante. E adesso cambiamo argomento. Parliamo di certificazione unica 2018. Ne abbiamo iniziato a parlare ieri nel corso della rubrica Fisco Pop. Ci ritorniamo per la seconda parte questa sera. Dunque in questa edizione l'esperto ci darà tutte le informazioni dettagliate per la compilazione di questo certificato davvero importante. Guardate. Adesso entriamo nel dettaglio della certificazione unica, per cui al lato dello schermo vedrete il modello proposto in formato grafico. Prima cosa da controllare sono i dati anagrafici esposti nella prima pagina e nello specifico, come è scritto nel rigo, la vostra residenza al 31-12. Questo perché? Perché da lì si applicano determinate calcoli delle addizionali comunali e regionali che, qualora fosse un dato errato, va sistemato con il modello 730. Passiamo poi a pagina 2 o 3, a seconda se avete il modello semplificato o quello esteso. Altro dato da controllare con estrema attenzione sono i familiari a carico. Perché ovviamente se questo dato è sbagliato, perché per effetto di redditi che i vostri familiari, i figli, la moglie e via dicendo, ne abbiamo già parlato, chi sono nelle puntate precedenti, hanno ricevuto un reddito, ricordatevi i famosi 2840,51 o per il futuro i famosi 4000 euro, superiori a questi redditi debbono essere tolti dai carichi familiari e quindi avete minor detrazione. Ecco, quindi controllate bene perché, qualora questa sezione non sia correttamente compilata, dovrete fare una dichiarazione rettificativa e quindi o un modello 730 o un modello unico persone fisiche. Entriamo nel clou di quello che dovete controllare. La certificazione unica ovviamente viene erogata, come vi ho detto, e quindi consegnata ai lavoratori, da ogni sostituto di imposta. Per cui voi potreste averne una o più di una e in questo caso bisognerà fare dei conguagli e quindi bisogna assolutamente considerare, qualora nel corso dell'anno precedente avete avuto più rapporti di lavoro, non solo susseguenti uno all'altro, ma anche concomitanti e quindi lavori su periodi di tempo diversi, ma assieme nello stesso arco del mese o dei giorni, dovete fare un'integrazione conguaglio. Altro aspetto invece, e qui mi raccomando fate molta attenzione, qualora avete una certificazione unica in cui al rigo 21, ecco guardate bene il rigo 21, abbiate scritto 0 e quindi non avete sostenuto alcun tipo di ritenuta, perché siete nelle soglie reddituali che non pagano tassazione, dovete stare molto attenti perché qualora in quel campo l'importo fosse zero, non potete avere alcun diritto alle detrazioni con recuperi di crediti di imposta, perché non avete la cosiddetta capienza per fare una richiesta tramite modello 730 o modello unico. Altro rigo importante sono i periodi di lavoro che sono scritti al rigo 8, 9, 10 e 11, quindi controllate questi righi perché qualora ci siano periodi discordanti o periodi dove voi non avete una continuità lavorativa, chiaramente le detrazioni e le agevolazioni che potreste avere legate al periodo di tempo lavorato, tipo la detrazione per lavoro dipendente, viene meno e quindi ci sono da fare delle rettifiche. Righi importanti sono quelli che vanno dal 121 al 133, in quanto qualora il vostro datore di lavoro non abbia avuto la possibilità nel corso dell'anno precedente di rimborsarvi i crediti spettanti da modello 730, in questo rigo vengono indicato ciò che ha rimborsato e ciò che vi spetta ancora da rimborsare. Pertanto qualora nei cedolini paga non abbiate ricevuto i crediti da 730, qui dovete trovare la montare mancante e mediante la compilazione di queste righi, qualora andate a un CAF, a un professionista abilitato o mediante il modello 730 precompilato, potete andare a recuperare nel corso del 2018, quindi nelle prossime imminenti dichiarazioni, i crediti spettanti che non avete ancora ricevuto indietro come rimborso. Altra sezione della certificazione unica del 2018 è quella prevista per i lavoratori autonomi o per chi percepisce redditi di capitale o altro. In questa sezione troviamo per esempio chi ha ritenuti occasionali o altro, vengono certificati da parte dei sostituti di imposta, gli emolumenti erogati e quindi ricordiamoci sempre il carico di famiglia, dei 2840 o i 4000 Euro e ricordiamoci sempre per esempio per i lavoratori autonomi con partita IVA soggette a ritenuta da conto che qui vengono indicate le ritenute certificate e quindi quelle che sono state pagate o incassate nel corso dell'anno precedente e qui c'è la ritenuta da poter scontare nella propria dichiarazione di redditi. Ecco, sono sempre documenti che vengono consegnati anche per i lavoratori autonomi o i redditi di capitale o altro consegnate entro il 3 di aprile, quindi fate molta attenzione e questo è dovuto per il fatto che da aprile cominciano le dichiarazioni di redditi e quindi modelli precompilati di cui parleremo nelle prossime puntate. Ultima sezione molto importante è quella delle note, qui troveremo scritto quelle situazioni dove non trovano risposte e segnalazioni all'interno del modello certificazione unica approvato. È una sezione di solito scritta in maniera abbastanza dettagliata e anche sintetica, quindi bisogna leggere e interpretarla. Vi consiglio sempre magari di farvi assistere da un professionista o da un CAF abilitato per capire se nelle note c'è qualcosa che magari vi può riguardare e che comporta degli adempimenti successivi. Allora adesso vediamo quelle che sono le novità importanti presenti nella dichiarazione unica del 2018. La prima è quella dei premi di risultato, per cui dovete andare a ricercare nella specifica casellina della certificazione unica qualora avete ricevuto dei premi di risultato se qui sono stati indicati correttamente. La seconda sono quei redditi prodotti da soggetti che hanno aderito al regime speciale del rimpatrio dei cervelli, ovvero quei lavoratori dipendenti che avevano prima un lavoro all'estero che sono rientrati in Italia e per effetto di una norma specifica hanno una minor tassazione e in certificazione è previsto questo tipo di adempimento indicato e sul quale dovete controllare perché avete un abbattimento di tassazione. Altra sezione prevista è quella dei cosiddetti French Benefit o il vero rimborso dei premi dei servizi soggetti a tassazione. Quindi dovete andare a ricercare qualora ricevete dal vostro datore di lavoro dei premi di servizio o quant'altro c'è una specifica sezione dove questi vanno indicati. Ultima importante novità è qualora voi abbiate degli immobili con la conduzione a cedolare secca e quindi con canoni agevolati e andate a tassarli sapete che potete farlo direttamente al datore di lavoro e quindi nella certificazione unica sono indicate le cosiddette regime fiscali delle locazioni brevi dove voi andate a indicare gli importi e questi vengono tassati. Mi raccomando è una casella importante perché ha una tassazione specifica del 21% e per cui va inserita perché è un reddito con una tassazione specifica e forfettaria quindi va inserita e tassata a parte. Una particolare tipologia di lavoratori subordinati ovvero sia le colfe badanti non sono esentate come magari pensano dal ricevimento e dai loro datori di lavoro dall'emissione e trasmissione della cosiddetta certificazione unica 2018 colfe badanti. Per cui mi raccomando qualora voi abbiate una badante per i vostri genitori o per i vostri familiari che necessitano di assistenza di informarvi e di predisporre la certificazione unica da trasmettere mediante il sistema telematico all'agenzia delle entrate e successivamente da consegnare ai vostri collaboratori domestici e quindi alle colfe e ai badanti affinché possano eventualmente fare i dovuti adempimenti per conguagliare o recuperare i crediti di imposta. Concludo dicendovi che nel momento in cui voi cessate un rapporto di lavoro entro 12 giorni è obbligo da parte del vostro ex datore di lavoro e sostituto di imposta consegnarvi la certificazione unica perché con questo modello provvisorio potete con il nuovo datore di lavoro andare ad applicare le tassazioni progressive spettanti in base ai redditi già percepiti. Questa procedura viene fatta quasi mai e questo dà adito poi a errori oppure a non presentazioni di modelli a conguaglio che cagionano pagamenti oltre che di sanzioni di interessi anche pagamenti di imposte non preventivate. Se io le parlo di modello di certificazione unica che a giorni scadrà lei mi sa dire cos'è a cosa serve? Certificazione unica, cosa è quella per l'ISEE per esempio? E' quello tipo di documento lì. Noi nella fattispecie siamo pensionati per cui non ricorriamo a questo tipo di certificazione perché abbiamo fortunatamente dei redditi che non ci permettono di aderire a certe facilitazioni. Io quello che sto vivendo per le giovani famiglie perché ho anche un figlio quarantena eccetera è che francamente questa finanziaria secondo me non sta portando a nulla in questo senso. Anche vogliamo gli sgravi per le ristrutturazioni, acquisto di mobili e tutte queste cose io non vedo dei grandi vantaggi a livello familiare. Le famiglie hanno bisogno di entrate che siano reali. Se io devo cominciare un bonifico e poi questo e poi quello e poi devo andare dal CAF oppure da un professionista per farmi fare il modello unico piuttosto che non i 7,30. Questo non è aiutare le famiglie, aiutare la cittadinanza, questo è creare complicazioni e farli arrabbiare. Io sono un'arrabbiata per esempio. E per oggi dalla bellissima città di Vicenza è tutto, vi aspettiamo al prossimo appuntamento che sarà dalla città di Rovigo. Grazie alla ragioniera Alberto De Franceschi, esperto tributarista, noi adesso diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Sulla regione Veneto c'è una temporanea fase anticiclonica per l'espansione dell'alta pressione dalle azzorre sull'Europa centro-meridionale. Questa fase è caratterizzata da una vezione temporanea di aria molto mite in quota che si farà sentire in alta montagna. Il tempo si manterrà stabile almeno fino a sabato. È tutto per questa edizione, grazie per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.